Buongiorno, sono Carmen Del Monte e questa è la rassegna stampa di oggi. Passiamo subito alle notizie più importanti. La prima viene dalla stampa ed è un articolo di Federica Taddia e parla di un argomento che sta a cuore veramente a molti, cioè come sopravvivere ai colloqui genitori professori. In questi giorni in tutte le scuole d'Italia è il momento del ricevimento. Bisognerebbe riuscire a trasformare l'incontro, dice Taddia, in un'occasione ed è alleanza. Vediamo che cosa succede. Cinque minuti, non un respiro in più, prendere o lasciare e avanti un altro, senza lamentarsi. A Padova la dirigente dell'istituto Francesco Severi ha decretato non più di 180 secondi ad alunno, ne avevamo già parlato, tre minuti, con i professori costretti a buttare un occhio sul registro e un altro sul cronometro, sotto molteplici sguardi dal supplichevole all'orgoglioso, passando dal severo e rassegnato il sorpreso di mamma e papà. Quindi si è aperta la stagione dei ricevimenti generali, che sono lo spauracchio di tutti, docenti e studenti, famiglie e presidi. Normalmente sono un'abolgia incredibile in cui ci sono delle file, ovviamente quasi sempre davanti agli stessi insegnanti, matematica, fisica, maratona di faccia a faccia, pomeriggi trasformati in verticose gioste da un insegnante all'altro, prove di orientamento tra scale e corridoi alla ricerca della classe giusta e oltretutto lotteria per accapararsi il posto. A volte ci sono i numerini, a volte ci si scrive attraverso il registro elettronico, oppure a volte funziona che chi prima arriva prima entra, insomma. Non è un momento di approfondimento, per quello esistono i ricevimenti settimanali, per chi può ovviamente, spesso sono la mattina, ma dovrebbe essere uno strumento di comunicazione del profitto e del comportamento dell'alunno. Molte scuole sintetizzano così le penalità dell'appuntamento, che per la maggioranza dei genitori rimane comunque una delle pochissime occasioni dell'anno in cui confrontarsi con gli insegnanti. Spesso capita di guardare l'insegnante e chiedere, ma di chi mi sta parlando questo qui? Perché poi l'immagine che viene restituita dai figli non sempre corrisponde a quella che conosco i genitori. ci si può porre di fronte a questo spavisamento in due modi. La maturità per i nostri figli, che magari all'esterno si comportano in maniera diversa da come li conosciamo noi, e questo fa parte del normale processo di crescita e della volontà di rendersi autonomi. Oppure rifiutare questa immagine con la scusa che l'insegnante non non solo noi, sì. Per dire la verità, anche questa è una frase che si tratta ai mondi. I ricevimenti sovente sono più temuti dai genitori che dai figli. Hanno paura di scoprire situazioni di cui erano all'oscuro, di venire umiliati, dice Maura Manca, psicologa e presidente dell'Osservatorio Nazionale dell'Adolescente. I colloqui sono un'opportunità, una risorsa per sapere realmente ciò che accade in classe per capire come intervenire. Ovviamente non bisogna farsi assalire dai sensi di colpa, non aggredire gli insegnanti, non mettersi in competizione con gli altri genitori, neanche solidarizzare troppo o troppo poco con i figli, dando sempre il loro torto o sempre la loro ragione. Districarsi in questo mare di consigli che si contraddicono l'uno con l'altro è decisamente difficile. C'è una dichiarazione di un docente, un'affermazione di un docente che dice Enrico Galliano che dice anche per noi è un momento delicato, abbiamo il privilegio di osservare giorno per giorno i ragazzi e di restituire quello che vediamo è un compito denso di responsabilità. Per instaurare un dialogo costruttivo è fondamentale iniziare dagli aspetti positivi. Se parto dalle politiche i genitori si sentono immediatamente giudicati c'è il rischio di inquinare la comunicazione. E questo è una cosa che effettivamente spesso lo dico con ragione di causa ma anche agli insegnanti. Cioè la capacità di comunicare durante i colloqui con i genitori. Spesso la scelta delle parole e la scelta degli argomenti è lasciata in qualche modo al caso o comunque standardizzata. Invece trovare le parole giuste per dire le cose è un'abilità che si acquisisce nei nostri corsi per docenti noi riserviamo almeno due lezioni alla comunicazione con i genitori. Credo poi che il docente dovrebbe fare molte domande per avere un quadro più completo sfaccettato della persona che ogni mattina si trova davanti. Chiaro che ci sono cinque minuti, molte domande non si possono fare. Non basta il solo potrebbe fare di più, sottolinea la manca, serve concretezza perché a volte i genitori non sanno da dove partire e hanno bisogno di indicazioni precise. Io penso che ciascuno di noi come genitore si sia provato di fronte almeno una volta alla classica affermazione dovrebbe studiare di più, oppure manca di metodo di studio, suo figlio va male, allora cosa fa? Cosa devo fare? Deve studiare di più. Eh vabbè, certo, questo è ovvio. Come, però, e in quale modo, sembra non viene mai detto. Passiamo al secondo argomento di oggi. Il caro università. Allora, c'è il rapporto Euridice del 2017, in cui la Commissione europea mette a confronto i costi di frequenza e gli aiuti agli studenti in tutta Europa. L'Italia è al terzo posto come costi, subito dopo l'Inghilterra e Galles, dove le rette hanno raggiunto la cifra record di 9.000 sterline l'anno, circa 10.000 euro, e l'Alster dove vanno tra i 3.000 e i 5.000 euro. In Germania e nei paesi scandinavi le università sono gratis, così come in Grecia e in Scotia. In Polonia, Repubblica Ceca, Slovacca e Slovenia sono quasi nulla, si pagano meno di 100 euro l'anno, e in tutti gli altri paesi, Francia, Belgio, Islanda, nei paesi dell'ex Yugoslavia, in Romania, in Bulgaria, addirittura in Turchia, sono comunque sotto i 1.000 euro. Allora, cosa succede in Italia? In Italia è che c'è un combinato tra il caro delle rette e la scarsità dei fondi per il diritto allo studio, che si ripercuote ovviamente sugli studenti che hanno meno possibilità di passare dalla scuola all'università. Solo un universitario su 10 infatti percepisce una borsa di 9,43%. Il risultato qual è? Che 9 studenti su 10 pagano le tasse, che è un record in Europa, le tasse universitarie intende, che è un record in Europa. A questi anche, beffa, gli idonei non beneficiari, cioè coloro che avrebbero diritto a percepire una borsa di studio in base al reddito, ma non l'ottengono perché non ci sono abbastanza fondi a disposizione. Se fosse un aumento dei fondi per le borse di studio, questo gap potrebbe essere ridotto. Tra l'altro, sottolineiamo che le rette continuano ad aumentare, quindi non solo sono alte, ma continuano ad aumentare. La spesa annua per la laurea triennale in Italia è di 1.316 euro, ma l'aumento più sensibile si è registrato per la laurea magistrale, quindi per il biennio finale, che ha raggiunto la quota di quasi 1.500 euro l'anno. L'ultima notizia di oggi è la risposta a una domanda. Tutti voi immagino abbiate seguito la vicenda del sottomarino argentino del fatto che non si riesce a trovarlo. A questo punto direi che le possibilità comunque una volta trovato di ritrovare gli sfortunati marinai in vita sia veramente molto esigua. E la domanda e la risposta ci viene da un articolo della stampa. Allora perché riusciamo a vedere un asteroide e non vediamo un sottomarino? E la tecnologia ci ha abituato a così tante meraviglie che spesso ci sfuggono i suoi limiti. L'acqua non è adatta ai nostri sistemi di indagine e di comunicazione. Che cosa succede? Succede questo. L'esempio è appunto quello con gli oggetti nello spazio, l'articolo di Paolo Magliocco. L'asteroide Uamamua, il primo oggetto che arriva dall'esterno del sistema solare, è stato intercettato e seguito nello spazio dai telescopi a centinaia di milioni di chilometri dalla Terra, benché sia lungo neppure 800 metri e largo molto meno. Il sottomarino argentino San Juan, lungo 65 metri, circa un decimo dell'asteroide, risulta introvabile in uno spazio di mare stimato meno di 1000 chilometri di lato e profondo forse alcuni chilometri. L'asteroide in realtà è stato scoperto per caso, però è stato visto da più apparecchi. La ricerca del sottomarino, invece, ha impegnato migliaia di uomini e unità militari di almeno 10 paesi e nessuno l'ha scovato. Com'è possibile che la tecnologia di cui disponiamo dai satelliti che sfruttano ogni angolo del pianeta e radar non sia in grado di capire dove sia? Il motivo per cui risulta così difficile individuare San Juan e il suo sfortunato equipaggio è che la luce e in generale tutte le onde elettromagnetiche sono inutilizzabili sott'acqua a partire da poche centinaia di metri di profondità. Le onde elettromagnetiche, infatti, vengono assorbite dall'acqua. Questo è il motivo per cui da una certa profondità in poi il mare diventa buio. Nell'aria o nel vuoto dello spazio che circonda l'atmosfera terrestre, infine, le onde elettromagnetiche continuano a muoversi a velocità della luce. Radar, satelliti, comunicazioni radio, cellulari, telescopi funzionano con le onde elettromagnetiche. Alcuni di questi strumenti sfruttano luce visibile anche dall'occhio umano, altri come i radar e le microonde. Sott'acqua però non funzionano. Da un sottomarino non si può telefonare e con un radar non è possibile individuarlo. L'unico strumento che si può utilizzare è il sonar, che funziona con le onde acustiche. Radar e sonar sono molto simili, concettualmente. Il radar invia un'onda elettromagnetica e vede il segnale riflesso da un oggetto distante anche decine di chilometri. Il sonar invia un'onda acustica e ascolta il segnale di ritorno, anche se ha una portata decisamente inferiore rispetto del radar. Un gruppo di ricerca dell'Università della Sapienza di Roma sta proprio cercando di mettere insieme un radar che funzioni anche sott'acqua. Nessuno finora ci è riuscito. Ecco perché anche l'esplosione che si sarebbe verificata nella zona in cui potrebbe trovarsi il sottomarino è stata registrata a mercoledì 15 da microfoni situati su isole dell'Atlantico Meridionale. E facendo e sperando che il sottomarino venga ritrovato io vi saluto e poi ci sentiamo lunedì mattina. Anzi no, potremo anche sentirci domani mattina perché domani mattina la rassegna stampa la faccio da Nino Web Radio. Buona giornata a tutti.